Com'è la competizione? Com'è la prima volta? Com'è la prima volta? Com'è la prima volta? Sono bene, e i miei bambini sono anche bene. E spero che stanno bene. Quali sono i prossimi appuntamenti per le nostre competizioni? Le mie prossime competizioni sono anche in Svizzera, e i miei bambini sono andati a San Giovanni per due settimane. Non lo so ancora. Cosa pensi di italiani? I italiani sono molto buoni bambini, ma non lo so molto bene. Ma quando vedo i bambini, penso che sono buoni. Per quanto tempo prepari la competizione? Per quanto tempo prepari la competizione? Per quanto tempo prepari la competizione? In avanti preparo la competizione per circa un'ora, o anche più. In maniera e in maniera? In maniera. Per quanto tempo prepari la competizione? Per quanto tempo prepari la competizione? Ero Ho! Ero Ho! in